Quindi comincio io? Si Stasera ai gradi è apparso in tutto Ehm... 8 2 Ah! Eh! Ce l'ho anche io qualcosa 3 1 2 3 E li metto nell'ordine che voglio Mmm... Vai Vai Testo 19 No Un po' tappo Gioco lui ma non associo Mmm... E poi gioco anch'io le abissi E poi puoi andare Mi fanno sempre voglia Quando vi vedo di guardare la serie di Pirati del Caraibi Lo guardo sempre in questo periodo dell'anno E qui non è che... Adesso ne fanno un altro Si, si ho visto Eh ma non subito Ah... Eh qua i sono capovolori I film Vabbè Placca circolica Vai gioco e avvino il tritone va a segno 18 guarda il 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 no caldo va va Ok, bufo, che schifo, su, 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 su. 1, 2, 3, 4, 3, 3 artefatti. Ok, bufo, che schifo, su, 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 su. Ok, bufo, che schifo. Ok, bufo, che schifo. Ok, bufo, che schifo. Sì, e ti balzo lui. Vai. Non ho attaccato apposta perché ho detto. Eh, lo so. Adesso ogni volta... Non ho attaccato apposta. Va. Ok. 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 3, 6, 2, 8 non ciò che è più roma possibile dunque 1, 2, 3 3 4 non scherz ok ok e lo balzo pesco una carta questo vuole tutto ok 10 meno 3 7 gioco 2 pesco guardo le prime va bene si fa troppo forte minchia ti cambia proprio la la partita figo che cazzo allora uno, due tre artefatti vabbè tre artefatti quattro artefatti a ranella gratis poi possiamo fare ok 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 vai teno un balzo tutta sta roba che non posso parlare si si vai un gioco un gioco un gioco un gioco un gioco un gioco non posso parlare tanto così volante si con questo mazzo qua è usceno no si è da vigliacco no è usceno